Signore e signore, vengano, vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica. Dieci lottatori e un solo vincitore. Affilate le note, la Top Ten sta per iniziare su CineFan 100.7. Ne rimarrà uno solo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Eccoci pronti per la Top Ten, numero 10 per Coez, nuova entrata, domenica. Posizione numero 9 per Achille Lauro con il brano Se la vi. Numero 8 per Bom Dabasch con Per un milione. Posizione numero 7 per Alessandra Amoroso con Forza e Coraggio. Numero 6 per Neck, la storia del mondo. Siamo la storia del mondo. Posizione numero 5 per Gali con I Love You. Al numero 4 troviamo Takashi e Ketra con La Luna e la Gatta. Saliamo sul podio e troviamo Marco Mengoni, numero 3, con Mohamed Ali. Posizione numero 2 per Luciano Ligabue con Certe Donne Brillano. Ed arriviamo alla prima posizione con Staj dei The Colors e dei Lodicon. Pensare male, sono loro i numeri 1. Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente.